Una notizia che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web, destando sconcerto. Un'aggressione omofoba sarebbe avvenuta sabato sera a Pozzallo, all'interno di un bar del centro, a pochi passi da Palazzo Lapira. Aggressione nel caso in cui si tratti veramente di un'aggressione omofoba che il primo cittadino Roberto Amatuna ha condannato nella maniera più netta, a prescindere dal contesto in cui si sono svolti i fatti. In ogni caso, prima di esprimere un giudizio complessivo sulla vicenda, ha ribadito il primo cittadino, bisogna attendere la conclusione delle indagini dei carabinieri che sono già in corso, per chiarire la realtà dei fatti accaduti. Solo allora saremo in grado di esprimere un giudizio con grande serenità e obiettività. Ma veniamo alla cronaca. Un giovane di 29 anni sarebbe stato apostrofato da un gruppo di ragazzi mentre si trovava in un bar, con epiteti molto pesanti. Il giovane non avrebbe reagito, chiedendo solo di essere lasciato in pace. Poco dopo, secondo quanto riportato, sarebbe scattata l'aggressione, selvaggia, con calci e pugni. Il tutto sembra davanti l'indifferenza dei presenti che non sono intervenuti e hanno lasciato che il giovane venisse pestato da più persone. Il ragazzo, che oggi ha subito un intervento all'ospedale, ha riportato la rottura del setto nasale. Ad accompagnarlo al pronto soccorso di Modica e alla successiva denuncia ai carabinieri, la madre. Il ragazzo avrebbe sporto formale denuncia, sostenendo di essere stato vittima di un'aggressione omofoba. I carabinieri della compagnia di Modica vogliono però far chiarezza su ciò che è realmente accaduto e per questo stanno controllando le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. Forse dietro questa violenza ci sarebbero altri moventi, riconducibili a problemi legati allo spaccio di stupefacenti. In ogni caso presto si farà chiarezza e in merito sostengono le forze dell'ordine. E sull'aggressione è intervenuta anche l'Associazione Arcighè di Ragusa che ha contattato il giovane per manifestargli solidarietà.